Torino è da sempre stata una delle protagoniste economiche nella storia del nostro paese. È stata anche la città che è stata maggiormente colpita da quelle che sono state le conseguenze del coronavirus, prima da un punto di vista di emergenza sanitaria e adesso da un punto di vista di emergenza economica. Bene, credo che comunque sia un momento in cui si possa anche pensare a quelle che sono le opportunità da sfruttare per un rilancio. Qui abbiamo una classe imprenditoriale straordinaria, di grande preparazione, abbiamo delle maestranze molto capaci che si sono specializzate in lavorazioni che ci vengono riconosciute da un punto di vista qualitativo da parte di tutto il mondo. Bene, partire prima possibile, cercare di non perdere tempo e fare in modo che i contributi europei, nazionali, quelli che saranno, mi auguro veloci, mi auguro anche cospicui, possano andare direttamente a progetti quali la defiscalizzazione sul nostro territorio per attrarre delle imprese, per attrarre il lavoro sulla nostra città. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti.